Managua, 3 giugno 2015, marcia delle replieghe, ripiegamento strategico fatto dai sandinisti nel 79, durante i bombardamenti, gli ultimi bombardamenti del generale Somosa, la città di Managua durante la rivoluzione, ci fu una ritirata per evitare inutile strage di civili che avvenne comunque, ma viene ricordata come un'azione militare di grande umanità da parte dei guerriglieri, incredibile.